Salve a tutti da Mario Santagati e da Chesslogger per i video problemi. In questa posizione muove il bianco e vince. La posizione è tratta da una partita che si è giocata a Mosca nel 1915 tra Alexander Alekin e un giocatore sconosciuto. Se avete già trovato la soluzione potete scriverla qui sotto nei commenti. Io da parte mia vi do appuntamento alla settimana prossima sempre con i video problemi e sempre con Mario Santagati e Chesslogger. Ciao a tutti! Ricordati di seguirci sui social network e di condividere il video. Grazie! Grazie!